E ora torniamo a parlare di un problema più volte sollevato dai cittadini di Iapigia, di chi è la competenza delle aree IACP tra via Pitagora, via Magna Grecia e via Archita, a chi spetta la manutenzione di verde e strade, Comune e IACP hanno finalmente trovato una soluzione al problema delle aree contese. Oggi un incontro tecnico a Palazzo di Città, sarà subito avviata una ricognizione dei due ettari in questione, l'Istituto Case Popolari cederà le aree al Comune che a sua volta potrà darle in gestione agli stessi condomini. Operazione dei Carabinieri a Bari e Brindisi, sgominata, una banda di ricettatori di prodotti di illecita provenienza, 4 gli arresti e recuperata la refurtiva del valore di quasi 400 mila euro. Parliamo di un carico di elettrodomestici di ogni genere, vestiti e giocattoli nuovi di zecca del valore di oltre 300 mila euro, nascosti in un locale in pieno centro a Bari. A Brindisi invece, 3 mila bottiglie di Amaro Lucano depositate in un capannone. Quanto sono riusciti a recuperare i carabinieri della compagna di Bari Centro che hanno arrestato 4 persone, non si esclude che la merce fosse destinata al capologo pugliese da rimettere nel mercato legale. Torniamo a parlare dell'avvertenza di Bari Fonderie Meridionali, nominati due commissari giudiziali dal Tribunale. Entro 120 giorni la definizione dell'avvertenza. Sentiamo. L'avvertenza Bari Fonderie Meridionali passa nelle mani di due commissari giudiziali nominati dal Tribunale. Da questo momento in poi decorreranno 120 giorni, entro i quali si dovrà scrivere il futuro dell'azienda, ma soprattutto dei 110 lavoratori. Al vaglio dei due commissari il piano di ristrutturazione del debito è redatto dai vertici aziendali che per passare dovrà incassare il nulla osta. Qui non c'è solo il rischio che un'altra azienda considerata a fiore all'occhiello del sistema produttivo barese venga cancellata dalla zona industriale. In ballo ci sono soprattutto le vite dei 110 dipendenti e delle loro famiglie che rischiano di trovarsi in mezzo ad una strada. Loro intanto non mollano, in presidio permanente dal 23 ottobre scorso continuano a bloccare lo stabilimento per evitare che vengano svuotati i capannoni. E soprattutto non cedono al ricatto dell'azienda, lo stipendio di ottobre se permetteranno di svuotare lo stabilimento. Da questo momento in poi la partita è aperta, la speranza di risolvere l'avvertenza con un piano che possa garantire la continuità dell'attività produttiva indiretta, l'unico modo per salvaguardare i livelli occupazionali. Inizia sabato con il trofeo Bottiglieri, il sedicesimo campionato invernale vera d'altura città di Bari, l'evento che si compone di nove giornate è stato presentato oggi al CUS Bari. Renato Laforgia, presidente del centro universitario sportivo, annunciato quest'anno abbiamo deciso con tutti gli altri circoli di dimezzare le quote di iscrizione per riavvicinare al nostro sport il maggior numero di atleti e appassionati e di garantire anche dei posti barca tariffe ridotte per chi viene da fuori. Previste 25 imbarcazioni di partecipanti, la gara di sabato che dà il via al campionato si svolgerà nel campo regata allestito dal circolo della Vela Bari nelle acque antistanti, il lungomare sud. La dodicesima edizione dell'Evante Film Festival è dedicata alla dimensione spirituale dell'essere umano. Mystic è il titolo scelto per la Kermess che si terrà da domani al 22 dicembre. Quattro le rassegne principali, Leaf Mystic, Il cielo sopra Berlino, Il cinema tedesco e Il trascendente, Finestra Levante e Tutti i colori di Kesslowski a un passo dal secolo, Mosfilm Anniversary. Un mese di proiezioni e incontri che animeranno Biblioteca Provinciale de Giamis, Chiesa Santa Teresa dei Maschi, Cineporto, Mediateca Regionale, Multisala Galleria, Nuovo Cinema Splendor e Università. In calendario film di Lynch, Bresson, Bunuel, Pasolini, Tarkowski e Berwan. Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo nuvoloso con possibili rovesci nelle zone interne, temperature comprese tra 11 e 19 gradi, venti moderati, mari poco mossi. Vi ricordo come sempre i nostri indirizzi internet www.telebari.it e radiobari.net E adesso vi lasciamo con uno spettacolo che tornerà in scena domani sera al Teatro Forma. Stiamo parlando di Rooms 2.0, lo spettacolo che racconta uno dei fenomeni sociali più preoccupanti dell'ultimo millennio, ovvero la crescita esponenziale, prima in Giappone, poi in Europa e in un ultimo in Italia, dei cosiddetti I Kikimori. Ci spiega tutto l'attrice e protagonista Elisabetta Mossa in questa intervista. Io intanto vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento più tardi. Al tempo del 2.0, quindi tutti in connessione, tutti perennemente collegati, voi trattate un tema molto particolare nel vostro spettacolo che è quello dell'isolamento. Sì, lo spettacolo prende spunto dal fenomeno degli Iki Komori, che è un termine giapponese che significa letteralmente stare in disparte, isolarsi. Si riferisce a una sorta di eremiti moderni, in maggior parte ragazzi, ma in realtà il fenomeno è sempre più in espansione e si allarga il gap generazionale, la base dell'età. Si riferisce a coloro che si ritirano dalla vita sociale per chiudersi in casa, in realtà, avendo tutto a portata di click, visto che l'epoca contemporanea ce lo consente. La maggior parte lavora online, vive una seconda vita interpretando ruoli su Second Life, oppure passando molto tempo giocando ai videogiochi. Comunque, si scollano sempre di più da quella che è la realtà effettiva per arrivare a vivere la propria vita in maniera totalmente virtuale. Quindi, in poche parole, qual è la storia di Olivia? Olivia è una Iki Komori molto particolare, è una Iki Komori più in su con l'età rispetto alla tipicità del fenomeno italiano, che è molto più adolescenziale. È una Iki Komori italiana trentenne. La sua è una storia di isolamento, però vissuto non come patologia, ma come esperimento sociale. Lei, diciamo che, fa una sorta di provocazione, ha un conflitto con la società talmente forte che la porta a volerla rifiutare e a tentare un esperimento estremo. Isolarsi per un tempo che scopriremo essere di circa nove mesi, quindi una sorta di gestazione, di rinascita di questo personaggio, che racconta quindi sia con occhio, scopre il mondo del web, ha rapporti soltanto con l'esterno, soltanto tramite mezzi tecnologici, soprattutto quelli che riguardano internet, apre un blog, lascia le sue testimonianze tramite dei videomessaggi, che si, come dire, diventa una sorta di self-brandizzazione il suo percorso. Il web stesso arriverà ad osannarla e a schiacciarla in maniera piuttosto tipica. Le dinamiche del web sono sempre, ripetono un po' gli stessi schemi. Olivia è una trentenne, il suo percorso affronta anche la tematica di una sorta di disagio generazionale che i trentenni di oggi sentono in maniera molto forte. Siamo la generazione, ho trent'anni anch'io, quindi dico siamo, siamo la generazione definita Ciusi, quella a cui è stato insegnato che puoi essere ciò che vuoi, ma che pian piano scopre che non è così. Voi domani sarete in scena al Teatro Forma? Sì, domani siamo in scena al Teatro Forma, una splendida cornice. Siamo in scena alle 20.45, l'ingresso al pubblico è consentito alle 20. Niente, siamo felici di essere qui, io in particolar modo essendo barese la prima volta e questo è il mio debutto nella mia città per cui sono molto onorata di essere qui. Grazie a tutti.